allora come state venne ho fulme appicciate e aspettamme caraventa russo sull'ucoo russo si può fare tutto che sta a dubbio e se capri di inda ma serve per riscoltare per riscoltare il gas può fare oltre la sua diciamo la sua per aumentare la potenzialità più si riscalda la bombola con l'acqua e più il gas che esce caldo se vedete non siamo neanche a 200 gradi là dentro pensate a quando mi arriva voglio vago se ci vanno bucate e ci viene buona ciao 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 ciao